Prima di morire aveva contattato più volte una prostituta e questa una delle poche certezze nelle mani degli inquirenti sul giallo delle ferato delitto avvenuto a Rimini, in via Coletti, nella notte tra martedì e mercoledì, che ha visto vittima Makanyang, 27enne senegalese, ucciso con due colpi di pistola. La donna, quando si accorta delle telefonate, ha provato a ricontattarlo, ma lui era già morto. Non escludendo nessuna pista, le indagini si concentrano anche su questo punto. L'omicida potrebbe essere qualcuno legato al giro della prostituzione, al quale potrebbe aver dato fastidio quel rapporto occasionale tra la vittima e la squillo. A questa testimonianza si aggiunge il filmato di una telecamera di videosorveglianza, che mostra come i proiettili che hanno raggiunto il corpo del giovane, che si trovava su una panchina, siano partiti dall'abitacolo di un'auto, che si è fermata qualche istante, per poi ripartire e sparire nel nulla. La famiglia del giovane è disperata, tanto che il padre non ha nemmeno avuto la forza di recarsi all'obitorio. Un omicidio che non riesce a trovare spiegazioni, visto che il giovane è stato descritto dai conoscenti come un bravo ragazzo e un grande lavoratore. Questo alimenta ancora di più la tensione all'interno della comunità senegalese, che sempre più è propensa a pensare che si sia trattato di un gesto alimentato dall'odio raziale.